Il farinello comune è una pianta annuale appartenente all'ordine delle centrosperme. Il nome prende spunto dalla forma della foglia, che ricorda la rassomiglianza alla zampa palmata dell'oca. Il farinello è ritenuto una pianta invadente perché si insedia facilmente nei terreni lavorati grazie ai suoi minutissimi semi. Da adulta raggiunge anche l'altezza di 2 metri ed ha una radice fittonante. Le foglie, di color verde, sono romboidali e crescono in modo alterno. Sono leggermente dentate, quasi bianche da giovani sulla pagina inferiore per via della presenza di una tipica farina che rende il riconoscimento di questa pianta inconfondibile. Anche da adulte le foglie mantengono un sottile strato di cera vegetale che le ricopre, conferendo loro una leggera sfumatura di bianco. Al tatto questa cera vegetale lascia una sensazione di farina. curiosamente questa pianta sembra sempre che sia impolverata. Il fusto ha un portamento eretto, esso accade ramificato, legnoso da adulta con una colorazione a strisce longitudinali rosse, gialle, verdi e talora bluastre. I fiori estivi sono raccolti in spiga di colore verdognolo con sfumature rossastre. I semi sono piccolissimi, neri e lisci. È comune in tutta Europa, cresce abbondantemente nei campi coltivati a patate, ma è diffusa soprattutto nei terreni magri e sabbiosi. Negli scavi, riporti e rimozioni di terra vi si insedia subito. Il farinello contiene il 2% di sostanze proteiche, il 5% di zuccheri e l'1% di grassi. La raccolta avviene da marzo a maggio, ma la possiamo trovare anche successivamente laddove si fanno lavori di movimento terra. Si possono utilizzare sia le foglie più tenere che i giovani getti. In genere i getti si raccolgono quando sono alti una decina di centimetri, mentre le foglie possono essere raccolte anche dal fusto quando la pianta è già un po' adulta. Il farinello è l'ottima alternativa allo spinacio, decisamente migliore perché il suo sapore è più delicato. Dopo una breve bollitura le parti tenere possono essere ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino. Il farinello è ottimo per la preparazione dei risotti, oppure può essere inserito nei ripieni di torte salate o ravioli. Può essere aggiunto ad altre erbe spontanee dal gusto più amaro, in modo da rendere più gradevole e dolce il sapore finale. Si sposa bene nelle minestre di verdure e se ne fanno deliziose frittate, ottimo anche da solo semplicemente ripassate al burro. Si adatta bene ad essere insaporito con erbe aromatiche come maggiorana, timo e origano. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.